allora 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 buon cinema a tutti è molto difficile trovare un punto dove guardare qui perché ci sono due specchi sono io che sono qua non mi giro perché se no non mi sentite più col microfono dottor streggio nel multiverso della follia ho deciso di fare questo video approfittando di un paio di specchi che stavano qua e parliamo in maniera multiversale sarà un video folle mai quanto il film ovviamente il rischio di spoiler c'è ma prima farò una parte legata a no spoiler a tutte le persone che vogliono sapere qualcosina qualche opinione eccetera eccetera ma senza spoiler poi andremo a parlare un po più nello specifico di cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto all'interno del film citando passaggi del film ma prima di cominciare andiamo qua sotto nei link dove ci sono tutti i vari social di cinefollie facebook instagram telegram e i podcast i podcast di cinefollie siamo arrivati al quinto forse al sesto deve ancora uscire non lo so in questo momento ma siamo al quinto quinto comunque è darkman darkman di sam raimi il primo cinefumetto di raimi che poi è passato a spider-man e poi torna dopo il grande potente odds a dirigere un film dopo vent'anni dal primo spider-man a dirigere un cinefumetto dr strange nel multiverso della follia forse il film di cui si sta parlando dall'inizio dell'anno andiamo velocemente a parlare in qualche modo della trama la trama si può dire non si può dire onde rischiare spoiler insomma diciamo quello che si sa dr strange e america chavez devono salvare il mondo dal multiverso della follia fine della trama perché tutto quello che succederà intorno a questo è spoiler è assolutamente spoiler non posso raccontarvelo cosa è stato assistere a questa proiezione di dr strange beh intanto l'ho visto doppiato per cui vorrei rivederlo in lingua originale per dare una seria valutazione soprattutto alla performance di di camberbatch che doppiato perde sempre non c'è niente da fare però 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 allora per evitare gli spoiler possiamo cominciare dicendo che chiunque sia un appassionato del cinema di sam raimi qui dentro ci troverà 850 mila autocitazioni di tutto quel cinema che ci ha fatto appassionare tantissimo ma non è solo un'autocitazione un mega segone autoreferenziale è un film che parla un linguaggio di una persona di 60 anni che ha imparato da hitchcock lo dico sempre quando parlo di reimi e che lo mette in scena tutte le volte questo film ha la forza propulsiva di un film di reimi è veramente un film incredibile incredibile oltre al fatto che la violenza c'è insomma lo splatter c'è per quello che la marvel può liberalizzare tra virgolette o comunque può accettare e approvare ma c'è anche una profondità dei personaggi che secondo me per quello che mi riguarda non era mai stata così approfondita in molti film marvel ormai col fatto dei mega blockbuster con i mega crossover 850 mila personaggi tutti insieme l'approfondimento dei personaggi era andato molto 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 a scemare qui ritorniamo con dei personaggi profondissimi dei personaggi che hanno le loro i loro archi di evoluzione i loro archi narrativi co protagonisti interessanti ma la cosa che mi è piaciuta di più o meglio quella che mi ha stupito di più perché di cose che mi sono piaciute ce ne sono tante e poi prima di passare alla parte spoiler dirò anche un paio di cose che non mi hanno convinto del tutto la cosa dicevo che mi ha stupito di più è il dosaggio calibratissimo dell'ironia quest'ironia che ha sempre pervaso il mondo marvel e che ha sempre sdrammatizzato troppo le i momenti drammatici ecco qui è tutto calibrato molto 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 meglio molto meglio veramente non pesa per niente anzi è sempre nel momento giusto questa è la cosa che mi ha stupito di più per quanto riguarda invece le note dolenti di note ne parleremo anche nella parte spoiler per quanto riguarda invece le note dolenti dicevo qualche dialogo barra spiegone qualche momento troppo dilatato è una situazione all'interno della della seconda parte del film che appesantisce un po il tutto ecco c'è un momento in cui due personaggi camminano secondo me camminano troppo un momento un po troppo dilatato e a fronte di un di un inizio in media stress così dirompente così coinvolgente e anche una componente che è una delle più attese che andrò a spiegare meglio nella seconda parte secondo me alcuni personaggi inseriti in questo contesto fanno il loro ma non lo fanno al cento per cento nonostante alcune situazioni siano veramente divertentissime nota di merito al ritorno di danny elfman io non lo sentivo così coinvolgente così coinvolto e così non lo so brillante da tantissimo tempo anche in dark shadows che a me piace tantissimo il l'apporto di elfman è molto risicato ecco le musiche anni 70 sono molto più coinvolgenti molto più presenti e anche molto più contestualizzate diciamoci la verità però in questo film porca miseria quanto spinge con l'acceleratore danny elfman con le sue musiche quanto ci spinge è veramente una componente essenziale per tutta per l'apprezzamento di tutto il film fate attenzione alla colonna sonora quando andrete a vedere questo film perché è veramente un momento una cosa magica poi lo so io magari ne parlo perché sono un fan di reimi e tutto quello che volete però vi dico la verità io avevo tante paure per questo film perché avevo paura che il il risultato di questo film fosse il mettere insieme i fan della marvel coi fan di reimi e far contenti un po tutti contenti un po tutti li hanno fatti però non è stato un un lavoro di di fanservice ecco non è stato per niente un lavoro di fanservice sono soddisfatto della visione che è stata pazzesca dall'inizio alla fine le qualche critica qualche parere non proprio esaltato l'ho trovato insomma nelle mie nelle bacheche facebook che per fortuna non hanno fatto spoiler che però non secondo me non hanno colto veramente la 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 forza che ha questo film dall'inizio che comincia dall'inizio in maniera così potente ma che poi ti cattura ti coinvolge ti ti prende tantissimo perché quello che fa reimi non è semplicemente faccio un altro cine fumetto eccetera eccetera dietro ci mette un racconto per immagini che non è banalmente faccio i campi giusti contro campi giusti mi diverto con le con le transizioni coi cat faccio delle sovrapposizioni d'immagine che sono stratosferiche perché questa è la vera forza del del film insegnare a quelli che si mettono a giocare con i cine fumetti come si fa un cine fumetto serio tra virgolette ma anche con tra poche virgolette e ci sono delle sovrapposizioni di immagini fortissime delle transizioni giochi anche con con la prospettiva col trasportare i personaggi da un universo all'altro si da un universo all'altro ci si diverte lui si diverte tantissimo e si vede che sta roba qui gli piace tantissimo soprattutto perché all'interno di questo film c'è proprio un discorso sullo sguardo sul guardare i personaggi guardano le proprie vite i propri what if i propri e se fosse successo questo piuttosto che quest'altro come sarei io ecco il discorso del sacrificio che poi è un discorso che nel cinema di reimi torna sempre da dalla trilogia della casa fino a darkman passando per per the gift eccetera 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 ci sono tante tematiche ridondanti del cinema di reimi ma c'è questo discorso sullo sguardo sul guardare personaggi guardano tanta televisione personaggi di contorno di non contorno mettiamola così e però si guardano si guardano ed è per questo che poi ho fatto sta cosa con gli specchi ma vabbè insomma sostanzialmente è un film che racchiude tanto amore per questo mondo per questo per questo mondo del fumetto americano con cui reimi è cresciuto eccetera eccetera ma anche tanto amore per il cinema si entra nello sguardo dei personaggi questo non è uno spoiler perché perché c'è nel film c'è c'è anche nel trailer c'è nel trailer la scena in cui si entra nell'occhio di scarlett quindi lo sguardo è importantissimo in questo film mi è piaciuto tanto lo vorrei rivedere prima possibile se riesco lo vado a vedere anche in lingua originale ma voi tenetevi forte perché si parte con la parte scusate la ripetizione degli spoiler gli spoiler gli spoiler iniziano parlando di quello che non mi è piaciuto più di tanto ecco e la cosa che mi ha dato più fastidio di tutte sono proprio i riferimenti palesi ai cine fumetti ai fumetti scusate in maniera proprio evidente le cose che mi hanno fatto fastidio ma per la maggiore sono due la prima è la carrozzina di xavier xavier lo abbiamo sentito nel trailer e tutto quanto poi questa è la parte di spoiler posso dire quello che voglio xavier è insaccato dentro questa carrozzina gialla forzata lì dentro per fare in modo che sia una una reference del dei fumetti della serie animata del 96 o 97 non mi ricordo che ritornerà adesso nel mondo del della disney plus e quindi allora li ritiriamo fuori e ci mettiamo questo xavier qui e questa carrozzina gialla è forzatissima forzatissima lo si vede dalla postura del povero patrick stewart che tutti già abbiamo ma quante volte è morto patrick stewart in questi universi quante volte è morto è morto quattro volte boh non mi dico è morto in x man conflitto finale ma no però vi spoiler tutti gli altri se non li avete visti quindi è morto tante volte è morto tante volte la seconda cosa che non mi è piaciuta è proprio la stella di america chavez questo portale a forma di stella che bisogna farlo a forma di stella perché i cine fumetti e aridai e perché i fumetti sono così e quindi bisogna fare questo portale in questo modo qui è che palle che palle non mi è piaciuto proprio esteticamente per il resto che vi devo dire ragazzi cioè reimi ci mette tutto quello che a cui ci ha abituati durante la sua carriera ci ha messo dentro l'armata delle tenebre con il risveglio dello zombie strange ci ha messo dentro la casa 2 ci ha messo dentro drag me to hell con il respiro con questo vento che entra nella nella casa di vanda che in realtà è vande si in possessa di lei ci ha messo dentro bruce camber uno dei camber più belli che lui abbia mai fatto è bellissimo gli ha dedicato la seconda post credit che nessuno nessuno almeno di quelli che erano intorno a noi che eravamo al cinema ha capito come riferimento questo bruce camber che si picchia da solo impossessato come nella casa quanto è bello quanto cazzo è bello ci ha messo dentro the gift ci ha messo dentro gli spiderman con gargantos che scala come se fosse appunto come se fosse appunto doc hoc tra l'altro questo qui è interpretato questo questo personaggio tutto in cgi è interpretato da jennifer molina che riporta il cognome dell'alfred molina di doc hoc ma poi abbiamo guardato su internet non sembra siano imparentati però è una cosa carina da notare e poi anche col finale il finale dell'arco narrativo il personaggio di questa vanda qui è lo stesso finale che viene riservato al personaggio di doc hoc in spiderman 2 che poi viene ricicciato fuori eccetera eccetera è stato interessante anche notare come si sia scrollato dalle spalle il problema spiderman no way home no abbiamo avuto un piccolo problema lo spiderman problem problemone abbiamo avuto un po un problemone con quel film altro che problema piccolo problema e però ce lo siamo scrollati di dosso questo spiderman ha avuto un problema col multiverso ma lasciamolo lì non ci interessa non ci interessa veramente bellissimo anche il modo di mettere in scena le musiche di danny elfman che non sono solo importanti da un punto di vista extra diegetico comunque di accompagnamento delle delle scene e dei personaggi sono importanti anche per come recuperano i vecchi temi da doctor strange fino a vanda vision ma c'è un momento in cui due dei mille doctor strange che vengono quattro in realtà due di questi doctor strange dicevo si scontrano e si scontrano ma quanto puoi essere genio nel momento in cui uno colpisce un pianoforte volano tutti i fogli all'improvviso questo decide di utilizzare le note musicali come se fossero delle armi è una cosa meravigliosa tra l'altro sotto ci sono anche delle dei piccoli delle piccole citazioni a dei brani di musica classica che non mi azzardo a citare adesso perché non me li ricordo e quindi sì elfman diventa un personaggio di questo film la sua musica è un personaggio di questo film è una cosa veramente veramente stratosferica il bello è anche come l'oscurità sia fondamentale in questi personaggi il loro modo di essere influisce tantissimo anche sul sulla componente visiva e c'è uno sguardo in macchina che fa scarlet twitch che elisabeth olsen bravissima forse la migliore di tutto il cast lei fa uno sguardo in macchina che è una roba da cinema horror meraviglioso più di questo non potevano dare perché il film lo guardano anche i bambini di 4 5 anni quindi secondo me io ci penso sempre quando un ragazzino guarda sti film probabilmente ne potrebbe anche rimanere abbastanza ecco spaventato è chiaro che a persone più grandi più adulte non è che fa tutto sto grande effetto però vedere questo gore questo splatter vedere capitan carter segata in due nell'universo cinematografico marvel che ci aveva abituato ai rivolini di sangue e basta ecco fa il suo effetto sapere che c'è dietro reimi è un valore aggiunto ma non è solo un valore aggiunto è proprio il fatto che reimi voglia fare questa roba qui alcune delle delle critiche sono state fatte e beh ma tanto se lui ha voluto fare sta roba è perché sicuramente gli hanno dato un sacco di soldi ma lui non gli interessava eccetera io credo che uno che sono 12 anni che non lavora se è tornato dietro la macchina alla presa nonostante in questi 12 anni non ci sia mai fermato alla sua casa di produzione fa le sue produzioni spinge gente come alexandra asia nonostante crollo non mi sia piaciuto tantissimo ecco lui il suo nome se l'è creato se torna dietro la macchina da presa per un progetto così enorme come dottor strange nel multiverso della follia avrà avuto le sue buone ragioni un pochino un minimo ci avrà creduto io ho avuto paura che questo non fosse vero ma sono contento invece di di aver visto che i miei timori non erano fondati reimi ci ha creduto si è divertito per primo gli hanno fatto fare grosso modo tutto quello che voleva nei limiti del marvel cinematic universe mi sono piaciute le varie citazioni a a un universo che accenna a gente come gli inumani a gente come capitan carter eccetera eccetera però non ti serve aver visto che ne so gli inumani o aver visto what if ecco forse vanda vision è un po necessaria ma credo per motivi di scrittura se la scrittura fosse stata fatta in un modo diverso anche vanda sarebbe stata inserita come personaggio pazzo che vuole dei figli perché li ha visti in sogno si poteva giustificare meglio però questo non è l'obiettivo della marvel l'obiettivo della marvel è che voi vi facciate l'abbonamento a disney plus per andare a vedere vanda vision se non l'avete visto una cosa che ha stonato tantissimo secondo me è john krasinski nei panni di mister fantastic io non ci credevo io non ci credevo mi faceva troppo pensare a the office sono quei volti che tu o li usi come ha usato james gunn come rain wilson è stato usato da james gunn in super che più o meno è sulla falsa riga di dwight oppure non puoi trasformarli in un personaggio comico in maniera così seria solo mettendogli la barba è vero che john krasinski ha fatto a quite in a quiet place un e due in quest'ultimo periodo però è gym è stato gym per nove stagioni quando lui lo guarda guarda vanda e le dice so cosa provi ho un figlio anch'io e lei che gli dice beh tua moglie è viva tu pensi a pam è lui che diceva c'è mia moglie che sto sempre a casa invece devo venire qui a lavorare lei c'è la maternità fa ridere ho avuto ma ha fatto molto ridere così come far ridere come viene smantellato come viene sventrato l'unico modo per 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 rendere per salutare per fare ciao ciao all'uomo chewing gum come dice frusciante per concludere qualche semplicioneria di scendi di scrittura a cui la marvel ci ha abituato ormai delle reference secondo me troppo marcate troppo fastidiose legate al mondo dei fumetti dei fumetti ma comunque una regia veramente stratosferica scene d'azione tagli di montaggio contro fuochi giochi con la telecamera e con quello che la telecamera può fare rendono sto film una roba veramente incredibile da vedere al cinema impensabile che l'unico termine quando voi dovete come sto film però non fare spoiler impensabile perché può essere sia in negativo che in positivo per cui rende un po il mistero e la gente è contenta perché gli avete dato un'opinione ma in realtà non gli avete detto niente tanta bella musica un danny elfman in grande spolvero grandissima regia lo ripeterò ancora una volta qualche errore qui e là il film è molto molto bello sono contento mi è piaciuto e vi invito ad andarlo a vedere al cinema se potete andare in lingua originale perché secondo me ancora di più poi quando lo vedrò ve lo saprò dire con certezza ma sono abbastanza convinto perché è la stessa cosa che è successa con il primo dottor strange di derrickson che ancora ce l'ho nel cuoricino il miglior film del marvel cinematic universe molte persone lo diranno a me non mi interessa è bellissimo mi è piaciuto tanto basta fine ciao fatemi sapere la vostra opinione qua sotto noi ci vediamo al prossimo video e ci sentiamo al prossimo podcast i link per trovare tutto sono proprio nella descrizione buon cinema a tutti alla prossima ciao ciao